Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizi alle famiglie, attività estive Hai un figlio o figlia di età compresa tra 3 e 14 anni? La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce alle spese per la frequenza di centri estivi, attività ludico-educative e servizi di babysitting fruiti fra giugno e agosto 2021. Possono fare domanda alle famiglie titolari di carta famiglia regionale in corso di validità e con ISEE fino a 30.000 euro. Per informazioni chiamalo 040-377-5252 o scrivi a siconte.info-regione.fwg.it La tua famiglia è in buone mani!